Vincenzo Catani, sindaco di Picciano, è il terzo candidato alla presidenza della provincia di Pescara, una candidatura civica in discontinuità con quella del centro-sinistro ufficiale. Noi abbiamo aderito a questo movimento civico creato dall'assessore Donato Di Matteo e dall'assessore Andrea Gerosolimo a Bruccio Insieme. Questo è il nostro primo appuntamento a livello provinciale e siamo fiduciosi di un ottimo risultato. La provincia diventerà sempre più un punto di riferimento per i comuni come il suo, delle aree interne. Come si può lavorare per aiutare quelle zone che in questo momento sono in difficoltà? Il primo problema, il problema più grande è la viabilità. Noi già stavo, l'ho detto poc'anzi, ci attiveremo con gli uffici tecnici, se io sarò il presidente della provincia, dove faremo dei rilievi su tutte le strade, delle schede, punti neri, controlleremo i punti e poi ci dovremmo attivare con i consiglieri, con gli onorevoli che abbiamo in Abruzzo, ci possano dare una mano su Roma perché noi come provincia di Pescara, se non vado errato, versiamo circa 17 milioni di euro l'anno allo Stato per il bollo auto. E io vorrei lavorare su questa cosa, su una cifra che il governo dovrebbe lasciare alla provincia di Pescara e in quattro anni fare una manutenzione seria, rifare gli asfalti, rimettere a norma tutte le barriere, risolvere tutti questi problemi dei ponti e i consolidamenti perché le strade sono diventate mulacchiere, non si cammina più da nessuna parte. Io vedo che il vecchio presidente ha portato avanti solo alcuni progetti che erano già stati finanziati, parliamo dei tre ponti che è un finanziamento del 2000, parliamo della strada di Scafa che è un finanziamento della regione Abruzzo del 2008 e poi c'è stata quella piccola manutenzione dove l'anno scorso è stata l'area della Val Pescara a beneficiarne perché c'è passato il Giro d'Italia e quest'anno invece la fortuna è toccata sull'area Vestina dove si sono sistemati alcuni tratti di strada, ma la situazione rimane ancora difficile. L'altra grande competenza della provincia è quella sulle scuole, Picciano tra l'altro il suo comune è stato un modello per la ricostruzione della scuola primaria. Io sono stato il primo comune in Abruzzo dove ha ottenuto i fondi per la demolizione e ricostruzione della scuola. Ci attiveremo così pure per le scuole della provincia, ci sono ancora molte schede da finire. Sull'unica cosa che possiamo fare è la manutenzione ordinaria e per la manutenzione ordinaria ci attiveremo l'estate perché non può capitare più che un ragazzo di sabbile come circa dieci giorni fa è successo a Pescara, non funzionava l'ascensore, non ha potuto andare a scuola, questa cosa qua non può accadere. Grazie. 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 Grazie.